Dai, ci siamo quasi! Ah sì, sono arrivata all'ultimo livello! Nessun problema, mi sono allenata per questo! Ce l'ho fatta! Ha finito il gioco! Oh, santo cannolo! Ho vinto un'isola! Sono proprietaria di un'isola! Abbiamo vinto un'isola! Sì! Questa è la mia isola! Sì, è la nostra! E vai! Mi sentite? Stiamo intervistando la nuova proprietaria dell'isola, Ellie! Quali sono i tuoi piani? Dammi il microfono! Vi dico tutto io! Costruiremo uno splendido hotel a 5 stelle! Sarà uno spettacolo per i turisti! Dammi il microfono! Non ho finito! Hai un'idea terribile! Ragazzi, mi aiutereste a fermare mia madre? Sì o no? Allora, qui faremo il mini golf! Queste piante dovranno andare via! Tutte giù! Ma ecco qua! Guarda! Sono bellissimi i progetti! Largo all'architettura! Tua madre è un genio! Basta costruzioni! Ti piacerebbe! Mi dispiace! Non riesco a fermare la mamma! Devo dirti assolutamente qualcosa di importantissimo! Vieni con me! Oh, per favore non picchiarmi! Ma no! È solo un telecomando per la mia tipo di pietra! La nostra tribù è stata sempre triste e affamata perché sull'isola non c'era più cibo! Se abbattete queste palme, la magia della natura di quest'isola scomparirà! Oddio tua madre! Oddio palma! Benvenuto hotel! Ma che devo fare? Ragazzi, cosa può aiutarmi a fermare mia madre? Quale strumento posso scegliere? Ehi! La mia sega! Dove vai? Ecco qua! La palma è salva! Ci rivedremo! Wow! Questa spiaggia è pulita e carina! Impeccabile! I vestitori l'adoreranno! Mi daranno un sacco di soldi! Quindi è questa la spiaggia in cui devo investire, vero? Diamo un'occhiata! Che caldo torrido! Guardi che bellezza! Cosa? Ma cosa? Cos'è tutta questa spazzatura qui? Ma è cosa da poco, guardi! È una cosa risolvibilissima! Succel! Maleducato! Beh, vuol dire che sarà ancora più ricco! Aiuto! Sto morendo! Il livello di radiazione è alle stelle! Sta tutto morendo! Nessun problema! Niente radiazioni! Sto solo recitando! E ora che la stella del mare torni all'oceano! Aiuto, Greenpeace! Per favore! Non si preoccupi! Signore investitore, ci deve essere sicuramente un malinteso! Non è mai successo! Non investirò mai in questo progetto! Per favore ci pensi ancora un po'! Sì! Le faccio vedere anche la scogliera! Sarei una grande sirena! Sì, sei stata fortissima! Tagliate tutti quegli alberi! Pulite tutte le foglie! E togliete gli animali! Avete capito? Fatemi vedere cosa avete scritto! Sì, signora! Abbiamo capito! Deficienti! Al lavoro! Subito! Che pianta! C'è uno strano mostro tra i cespogli! Ci mangerà bimbi! Non abbiamo scampo! Ma di che stai parlando? È una ragazza, non un mostro! Ma cosa ha lui? Abbiamo fatto un ottimo lavoro spaventandoli! Ehi ragazzi, e voi di cosa avete paura? Commentate le vostre più grandi paure qui sotto! Ragazzi, avete voglia di ciambelle? Buttatevi! Che sapore prendiamo? Io prendo la fragola! E io il cioccolato! Adoriamo le ciambelle! Ehi, e qual è il vostro gusto preferito di ciambelle? Vale il giocattolo invece di quelle vere! Eh, queste sono quelle che vi meritate! Queste ciambelle ci volevano proprio! Ehi, ma dove sono finite le nostre pale? Qualcuno le ha scambiate! E va beh, lavoriamo con quello che abbiamo! Lo sapete che dobbiamo costruire un hotel? Non dei castelli di sabbia! Scaffa chi? E partito! Siamo sull'isola dove si costruirà l'hotel più grande del mondo! Andiamo a conoscere il proprietario! Ed eccola qui, la proprietaria del futuro hotel! Una donna d'affari con la A maiuscola! Un modello per tutte le donne! Ora vedranno tutti cos'è mia madre! Ma andiamo a conoscerla più da vicino! Che aspetto ha una futura milionaria? E che vista avrà il suo hotel? Beh, una vista fantastica! Ops, i giornalisti sono già arrivati! Ecco come pare l'avidità umana! Oh no! È tutto andato in fumo! Agente, deve per favore individuare e arrestare questa pericolosa criminale! Questa sirena mi sta rubando il futuro! Deve fare un'identichitta e trovarla! Ha capito? Ok! L'arresti! Addio! Bene, bene! Ho bisogno di voi! Quale di questi disegni le somiglia di più? Scrivetelo qui sotto nei commenti! Chi dobbiamo andare a prendere? Oggi è il mio compleanno! E vai! Tesoro, ecco il tuo regalo! Un modello dell'isola! Il mio regalo! Sua madre è proprio generosa! Vorrei aggiungere più animali all'isola! E io aggiungerò il mio hotel! E dai mamma! Ci risciamo ancora! Wow! Quanti regali! E sono tutti miei! Che ci sarà dentro? Ragazzi! Cosa pensate che abbia ricevuto? Scrivete le vostre ipotesi nei commenti! La mia piccola isola! Sto per radere tutta il suolo! Pronto? Sì, sono io! Siamo nei tempi esatto! È ora di andare! Vediamo i suoi appunti! Oh no! La demolizione è L3! Manca solo mezz'ora! Devo rimandarla! Ma come ci arrivo? Qual è la strada più veloce? Ragazzi vi prego aiutatemi! Commentate qui sotto qual è la strada più corta! Ciao! La mamma sta cercando di distruggere l'isola! E abbatterà ogni singola palma! Sto per arrivare! Rimuovete tutti gli alberi! Dobbiamo spiegarglielo! Se abbattete tutti gli alberi il vulcano errotterà! E sarete tutti nei guai! Non credo alle leggende! Guarda qua! Non succede niente! Riuscite a sentire il vulcano? Io no! Riproviamo! Bam! Bam! Oddio! È terremoto! Aiuto! La maledizione è reale! È lì tutto ok? Sì! Me ne andrò via col primo volo! Quest'isola è tua! Addio! E guarda! Sono state loro! Ti avevo detto che dovevamo collegare e l'altro cavo invece che quello! L'esplosione è tutta colpa tua! No! È tutta colpa tua! Alla fine è stato un errore di costruzione! La nostra isola è salva! Ah sì! Vi sono davvero grata! Posso davvero godermi la natura su quest'isola! Ah sì! L'ha capito! L'isola è bellissima così com'è! Ah sì! Ah sì! Congratulazioni! Lei ha vinto un'isola! Quello cos'è? Tesoro! Ma dove siamo? È così vuoto! Nient'altro che natura! Qui potremmo costruire un parco a tema! Sì! Una spa e un resort! Proteggeremo la nostra isola tutta insieme! Pronte ragazze? E voi chi siete? Il vostro peggiore incubo! Cos'è non ho bisogna fare un po' di sé. Ah! Scopriare!